Un caro saluto da Mario Giulianci. Quali sono le località più nevose al mondo? Bene, noi citeremo solo le prime tre. Al terzo posto c'è una città del Giappone, Toyama, che mediamente accumula circa 363 cm all'anno. Al secondo posto c'è ancora una città del Giappone, Sapporo, con ben 597 cm ma nel 1996 ne caddero 680. Al primo posto non ci crederete ancora una città del Giappone, Aomori, dove mediamente in un anno cadono circa 669 cm con un massimo assoluto nel 1996 di 1263 cm, ossia più di 12 metri.